Grande festa per le attività storiche di Noventa di Piave. Il Comune ha infatti deciso di donare 60 targhe di riconoscenza alle attività storiche della città, un segno di gratitudine da parte dell'amministrazione a chi ha donato tanto alla comunità. Un gesto simbolico che l'amministrazione ha voluto fare per mettere in risalto l'importanza delle attività produttive più piccole, che da decenni continuano ad essere parte integrante dell'economia del nostro territorio e che negli ultimi tempi sono strette nella morsa della crisi ma non demordono. L'iniziativa è nata dall'idea veramente di voler ringraziare prima di tutto. Credo che per chi per tanti anni ha lavorato, ha operato, ha trasmesso anche conoscenze, ha trasmesso un patrimonio culturale riferito proprio al servizio che si fa al Paese, perché poi ogni attività produttiva alla fine è un servizio per questo Paese e quindi è importante ringraziarli. Questo per dare un segno anche della vicinanza dell'amministrazione a queste attività. Una grande festa che avrebbe dovuto svolgersi simbolicamente in piazza per far sentire l'abbraccio e il ringraziamento da parte della comunità, ma che a causa del maltempo si è tenuta all'interno del palazzetto dello sport. Saranno premiate le attività storiche del Paese e quindi gli imprenditori o i figli degli imprenditori che storicamente sono partiti con delle attività su tutti i settori, quindi industria, commercio e artigianato. Lo volevamo fare in una cornice bella che a nostro parere era la piazza, per il significato. Dovremmo chiedere uno sforzo di fantasia alla gente che è presente, perché abbiamo circa 300 persone questa sera presenti. Purtroppo il tempo, devo dire, che si è ripresentato coerente con tutto quanto ha fatto questa estate e allora ci troviamo in palazzetto dello sport. Però va bene lo stesso, vedo che la partecipazione è numerosa, siamo molto contenti, molto felici e l'amministrazione intera ha deciso appunto di premiare e di riconoscere un grosso lavoro che viene fatto nell'interesse della comunità. È sempre più difficile aprire un'attività negli ultimi anni, ma le difficoltà esistono anche per chi da tempo insiste nel voler investire nel proprio territorio. Ci sono aziende e attività che vogliono restare in Italia e che da tempo, fra enormi sacrifici, aiutano l'economia della propria città. Credo che sia una bella iniziativa, perché gente che ha dato tanto per l'economia di questo paese, non solo del paese 90 o dei dintorni, ma anche di tutto il paese d'Italia, merita un riconoscimento. Chi ha avuto il coraggio per tanti anni di dedicare tutta la sua vita per la sua attività, per i suoi collaboratori, per far crescere un paese intero, secondo me merita questo riconoscimento. Un ringraziamento è un riconoscimento, quindi dovuti, che provengono da tutta la comunità di 90 di Piave, che si è stretta attorno a queste attività storiche in una grande cena di festa.